Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Un vasto campo di alta pressione è attualmente stazionario sull'Europa centrale ed è in estensione verso il Mediterraneo e l'est europeo. Ciò favorirà sull'Italia tempo stabile, ma temperature gelide e nebbie diffuse, soprattutto al primo mattino. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 4 dicembre. Freddo al mattino nell'entroterra pugliese e lucano, con possibilità di nebbie sulle medesime aree. Nuvoloso o poco nuvoloso su tutti i settori, con possibilità di brivi piovaschi durante la giornata, su Potentino, Gargano e sulle aree interne pugliesi. Temperature in aumento, come vediamo dalla grafica, in particolar modo nei valori massimi, sulle aree costire. Soffieranno venti deboli dai quadranti sudorientali, più intensi sull'estremo Salento. Per quanto riguarda i mari, avremo l'Adriatico e lo Ioneo calmo, più mosso il Canal d'Otranto. Oggi, per la consuetta rubrica La foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Marzo per questa splendida foto che ritrae i tetti e il campanile della Cattedrale di Otranto e sullo sfondo l'imponente catine dei Monti Albanisi. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappola oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. 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 Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.